Vi diamo il benvenuto in autostrada, benvenuto, introdurre il genaro alla tessera, se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il caso, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il biglietto, ritirare le monete rifiutate, introdurre il denaro, o attendere l'intervento. Si prega di non scendere dal veicolo, casello autostradale, cassa, niente male. Arrivederci, se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Se non vuoi pagare il casello, sulle mani, e fai bordello. Grazie a tutti